Arrestato il presunto reggente del mandamento di Brancaccio, il latitante Antonino Lonigro. Pensate come lo hanno disturbato! Sì, perché quando lo hanno arrestato, lo hanno ammanettato quando lui è stato impegnato ad ascoltare la musica in cuffia. Sì, il boss Antonino Lonigro è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Bagheria con la cuffia alle orecchie. La musica ad alto volume e le canzoni di lui, il cantante napoletano Toni Colombo. Lui, Lonigro, in tuta da ginnastica, non si è accorto di nulla. Ha capito solo quando gli hanno tolto la cuffia. Così, dopo 15 mesi, si è conclusa la latitanza del presunto reggente del mandamento di Brancaccio. Un tempo regno di loro due, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Antonino Lonigro, tra i 100 fuggitivi di Italia più inseguiti, è stato scoperto in un appartamento del centro di Bagheria. La titolare del contratto d'affitto, lei, con Cetta Barbagallo, 29 anni, di Bagheria, adesso è in carcere per favoreggiamento. Sul tavolo della casa, in via Paterna, vi sono ancora i sacchetti della spesa appena comprata la supermercato. Antonino Lonigro come Renato Vallanzasca. Infatti, Lonigro è sfuggito più volte alla cattura ed in modo rocambolesco. Prima a Palermo, il 16 gennaio del 2008, il giorno del maxi blitz antimafia, cosiddetto Old Bridge. Poi, lo scorso luglio, in Calabria, a Siderno, nella Locride, dove con la fidanzata ha trascorso le vacanze in una casa sul lungomare. Poi, pensate, è stato a Palermo, al comune, dove gli hanno autenticato la firma su di un documento utile per un processo in cui è imputato. Il pedigree del boss, fedelissimo di Salvatore e Sandro Lopiccolo, braccio destro di Andrea Adamo, parente di Piero e Francesco Lonigro, nipote di Pietro Tagliavia, capo mafia storico della famiglia di Corso dei Mille. Grazie a tutti.